Ciao ragazzi da Vittorio, alcuni di voi me l'hanno chiesto sul canale Telegram, trovate il link in descrizione, mi raccomando iscrivetevi e anche nei commenti, negli altri video che ho fatto questa settimana. Felipe Anderson, tu lo riprenderesti alla Lazio? Bene, in questo video vi dico la mia. Innanzitutto tutto è nato da un rumor che è uscito questa settimana, secondo cui Felipe Anderson sarebbe trattando il ritorno alla Lazio. West Ham sta quasi retrocedendo, insomma ha perso contro Liverpool dopo essere andato avanti, la situazione è abbastanza complicata e se West Ham dovesse essere retrocesso ovviamente Felipe Anderson cercherebbe probabilmente un'altra destinazione. Io credo che questi rumor siano assolutamente falsi, non credo che la Lazio stia trattando Felipe Anderson, ma fossi io il glitare, lo riprenderei? Beh, il discorso secondo me è un po' più ampio. Bisogna partire da un po' di tempo fa. Ecco, due o tre anni fa il talento della squadra della Lazio era superiore a quello della squadra attuale. Penso a Felipe Anderson, penso a Keita, penso a Lucas Biglia. Insomma, Lucas Biglia quando era alla Lazio era considerato il play più forte della Serie A. Ecco, Leiva è un ottimo giocatore, ma non ha i piedi di Biglia. Keita, l'ultimo anno della Lazio, ha fatto delle cose mostruose. Non solo era difficile da marcare, ma ha iniziato anche a segnare tanto. Ecco, io non credo che Caicedo sia più forte di Keita e neanche di Felipe Anderson, onestamente. E credo che anche Correa non sia forte come Keita. Eppure, eppure, da quando questi tre giocatori si sono andati, la Lazio due volte, non una, due volte, ha battuto la Juventus in una finale di una competizione. Ha vinto una Coppa Italia contro quella che era la squadra forse più in forma del momento, no? La Tavanta, che del resto è raggiunta la Champions League. Ecco, con meno talento la Lazio ha vinto più partite importanti, più trofei. Come mai? Eh, perché Keita è un fenomeno. Secondo me, Keita, a quest'ora, dovrebbe valere 70 milioni di euro. E invece, da quando ha lasciato la Lazio, è crollato. Vi ricordate che Keita, la Juve voleva Keita dalla Lazio. Keita è andato al Monaco perché Lotito non era contento dell'offerta sotto banco fatte dalla Juve. Ha un giocatore tesserato da Lazio. Ecco, per dirvi, se la Juve vuole un giocatore, vuol dire che quel giocatore è forte. Non può essere che vanno a prendere così uno scherzo. Secondo me, Keita, quell'anno, l'ultimo anno alla Lazio, ha fatto delle cose mostruose. Eppure, quando è andato via dalla Lazio, a Monaco ha fatto schifo, è andato all'Inter, ha fatto riserva, adesso è tornato in Francia e sta facendo qualcosino di decente. Ma, rispetto agli anni della Lazio, è un altro giocatore. Keita è un talento mostruoso, ma non basta al talento, ci vuole anche la testa. E da questo punto di vista, Keita non è fantastico. Soprattutto ha spaccato lo spogliatoio e quindi non è un uomo squadra. Felipe Anderson è un giocatore dalle accelerazioni mostruose. E poi c'è quella partita all'anno in cui è fantastico. Però ci sono le altre 37 partite dove Felipe Anderson fa poco niente. Soprattutto nel big match, Felipe Anderson fa praticamente niente. È un giocatore che gioca benissimo 10-15 minuti e poi il resto della partita fa poco. Certo, noi ci ricordiamo quell'incredibile accelerazione, quella grandissima azione, però poi ci sono altri 85 minuti da giocare e Felipe, purtroppo, non ha quella continuità. Se il discorso Lucas Biglia, no? Grandissimo play, fenomenale, però da quando si è andato lui, la Lazio ha iniziato a vincere i finali. Non solo, adesso Biglia praticamente fa l'ex calciatore al Milan. Come mai, nonostante sia così forte? Non basta il talento, ci vuole la testa. Questi tre giocatori non hanno la testa, questi tre giocatori non sono dei vincenti. La Lazio lasciando andare questi tre giocatori e si istituendoli con giocatori, che possiamo dire, leggermente inferiori, però più uomini squadra, giocatori più vincenti. Ecco, Caicedo non avrà mai la qualità di Keita o Felipe Anderson. Però quanti gol importanti ha fatto quest'anno? Quanto è stato decisivo Caicedo? Quando mai Felipe Anderson è stato decisivo, vi chiedo io? Keita è diverso, Keita è stato decisivo, io me lo ricordo al derby, me lo ricordo in altre partite, però è uno che ha spaccato lo spogliatoio, uno che è facile alla prima donna, uno che ha chiesto di andare via e si è rovinato la carriera. Per cui, tornando al monte, vorresti Felipe Anderson alla Lazio? La risposta è no, non lo vorrei, anche se sono affezionato, perché questa squadra ha alzato il proprio livello. La Lazio non è più là per entrare in Europa League, la Lazio lotta per entrare in Champions League, magari anche fra un paio di anni lottare per lo scudetto, con continuità. E Felipe Anderson è un giocatore, tra virgolette, da Sassuolo, è un giocatore forse da Fiorentina adesso, una squadra che lotta per entrare in Europa League, ma non una squadra da Champions League. Purtroppo, sia Keita che Felipe Anderson sono giocatori d'Europa League. La Lazio vuole puntare in alto e deve prendere giocatori da vertice, giocatori che fanno squadra, come Caicedo, giocatori che nelle partite importanti ti sanno decidere la partita, possibilmente giocatori forti anche. Ecco, Felipe Anderson, come Keita, talento non si discute, ma le altre due necessità non ci sono. Non è un giocatore determinante nelle partite decisive e soprattutto Keita non è un uomo squadra. Per questo io dico con rammarico che Felipe Anderson non lo riprenderei nella Lazio, perché sarebbe un passo indietro per questa squadra. Grandissimo talento, ma un passo indietro. E voi che ne dite scrivetelo nei commenti e mi raccomando, se non lo avete fatto ancora, iscrivetevi al canale Telegram. Vi aspetto. Ciao!